Ciao amici, volevo farvi partecipi di questa mia nuova avventura con i granuli di kefir. Un'amica me ne ha regalati un cucchiaio, diciamo, pochini, questi adesso stanno crescendo e quindi anch'io li regalerò ad altre persone, è così che si fa. Sono rimasta veramente affascinata a leggere tutte le proprietà di questa bevanda, di questa sorta di yogurt che si ottiene appunto con questi granuli. Infatti la parola kefir proviene da una parola che significa stare bene, questo dice tutto. Andiamo a vedere come gestirli. Allora, ecco qua, questo è il barattolino, come vedete io ho pochissimi granuli, adesso vi faccio vedere, questo è il risultato da ieri sera quando ho messo il latte, poi ci arriviamo, vedete si sta addensando, quindi sono passate presto a poco 12 ore, 15, ma possono stare tranquillamente 24 ore prima di filtrare. Bene, questi sono i recipienti, vetro, il colino in plastica, non in metallo. Mi vuoto il barattolino, in questo modo. Queste informazioni io le ho prese naturalmente tutte dal sito kefiritalia.it, quindi se ci andate trovate tutte le informazioni e lì troverete anche tutte le proprietà di questo miracoloso prodotto, che è un antitumorale anche. Allora, vedete, io sto passando tranquillamente con questo cucchiaglino di plastica e intanto che cola mi preparo l'altro barattolo pulito, naturalmente i barattolini bisogna lavarli soltanto con acqua, senza detersivi, acqua calda, anche questa pezza che userò per passare. Ecco qua, come vedete è colato quasi tutto. Questi sono i granuli, guardate, sono dei piccolissimi, sono formati tipo come il cavolfiore, diciamo, vedete, e stanno aumentando già, ogni giorno aumentano poco, ma aumentano, così potrò fare una maggiore quantità di yogurt, vedete. Non è consigliabile lavarli, sciacquarli come alcuni fanno perché perderebbero un po' dei loro fermenti. Io ecco li faccio asciugare un pochino, li strapazzo anche con il cucchiaglino, non succede niente. Ora li appoggio un attimo qua e vi faccio vedere che questo, si può bere già così, se vi piace bere, guardate, non sa assolutamente di acido, è buonissimo, il sapore è molto meglio dello yogurt che sta in commercio, molto più buono. Io però lo voglio far restringere un pochino, quindi lo metterò a colare in questo barattolo, così, in questo modo. Ora ci metto un elastico, la pezza sempre pulita, lavata solo con acqua calda. Ci metto un elastico così, così non va giù, non va a toccare il siero che esce. Oh, guardate, io sto alle prime armi con questa cosa, però ho studiato, mi sono studiata bene tutti i siti, specialmente questo di Kefir Italia. Copro con un piattino questo barattolino, così, e vado a mettere i granuli dentro il barattolo pulito, così ricomincio di nuovo, ecco qua. Ci metto il latte intero, ho pesato, ho tolto la tara, sono 10 grammi di granuli. Quindi io sto usando la proporzione massima, diciamo. Ok, questo tutto a temperatura ambiente, in frigo si mette soltanto per rallentare un pochino, oppure l'estate quando fa caldissimo. Bene. Lo copro senza stringere il tappo, lo lascio lento, oppure si può mettere un telo, perché deve respirare. Questo è quello che ha scolato dopo qualche ora, vedete, c'è il siero, che è pieno di vitamine, quello si può bere, sono fermenti, si può usare per fermentare, si può fare il pane, tantissime cose, e anche la pasta madre, ci proverò prima o poi. Questo è diventato cremoso come uno yogurt, come vedete. Se invece voglio fare una crema spalmabile, lo terrò più ore, anche tutta la notte, magari in frigo questa volta. Qui, vedete, ha scolato abbastanza, vedete quanto ne è uscito il siero, che è un peccato buttarlo, perché il letto è veramente pieno di tante sostanze. Però ecco, così, vedete, ancora non è proprio denso. Se io l'avessi tenuto più ore, sarebbe stata ancora più concentrata questa crema spalmabile. Io adesso soltanto per farvi vedere il procedimento, e questa la userò magari per mettere su un cracker dietetico, la spalmerò su qualcosa. Pulisco bene la pezza, ed eccolo qua. Può stare in frigo un giorno o due, come in tutti i prodotti probiotici che troviamo in commercio, ma questo sicuramente, fatto da noi, è più sano e più gustoso. Eccolo qua. Bene amici, spero di aver spiegato tutto per benino, anzi, se c'è qualche amica più esperta di me, gradirei anche dei consigli nei commenti sotto il video. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!